Quella del 13 novembre è una data che il Salento leccese, soprattutto il versante ionico, difficilmente dimenticherà. Perché se è vero che nell'ultimo anno eventi atmosferici di incredibili proporzioni hanno colpito questo territorio decisamente non abituato a certe calamità, la burrasca e la mareggiata di mercoledì scorso hanno letteralmente spazzato via intere porzioni di opere pubbliche e una fetta di economia. Per i danni che la stessa ondata di maltempo ha provocato nel nord Italia, emblema ne è la situazione drammatica di Venezia, ma anche al sud, come a Matera, sono partiti stanziamenti straordinari dal governo, raccolte fondi, iniziative solidali. La stessa attenzione non è stata affatto riservata al Salento che, come è abituato a fare, intanto si rimbocca le maniche per rialzarsi da solo. Parte su Telerama uno spot per lanciare una raccolta fondi per le amministrazioni comunali e i privati, pescatori, agricoltori e ristoratori più colpiti. L'hashtag è una mano per il Salento. A Venezia, Matera, la Toscana sono luoghi importantissimi per tutti noi ed è giusto che si dia una mano, ma com'è giusto che questo governo dia la giusta attenzione e la giusta mano al Salento, che è un luogo straordinario ma che ha subito un colpo al cuore. Chiediamo a tutti di battere i cinque con il Salento e di dare una mano per aiutare i nostri comuni. Al di là di quelli che sono i danni legati alle infrastrutture e i danni ambientali che abbiamo avuto, il Porto Cesario ne ha avuti tantissimi, poi ci sono anche i danni dovuti al maltempo e quindi alla distruzione di pescherecci, alla distruzione dei ristoranti, delle strutture ricettive e quant'altro. Quindi dobbiamo dare delle risposte, dobbiamo dare delle risposte al territorio, dobbiamo dare delle risposte a chi ha avuto questi danni, perché non è possibile che chi ha perso un peschereccio, fonte di sussistenza e di vita per la propria famiglia, ora non ha più di che vivere. Siamo chiamati a dare una risposta corale ad un'emergenza venutesi a determinare con le avversità atmosferiche degli ultimi giorni. Quindi le amministrazioni comunali e gli imprenditori sono in ginocchio, necessitano di una risposta immediata e quindi la solidarietà, la responsabilità, l'acquisizione di consapevolezza, innanzitutto da parte di tutte le istituzioni di ogni ordine e grado, credo che sia indispensabile per far sì che ci si rialzi presto. Mi sembra che sia una giusta iniziativa, a seguire gli eventi naturali dei giorni scorsi, sia il pubblico che il privato ha subito molti danni. Quello che io chiedo è che tutti i cittadini siano trattati con le quali dignità. Una forma di solidarietà che non guardi a colori politici, ma che mette insieme tutte le forze politiche e amministrative che hanno ricevuto questo danno inimmaginabile con questa mareggiata che ha devastato i nostri litorali, debbano appunto mettersi insieme per venire incontro alle stanze di cittadini e di imprenditori che sul territorio hanno investito e danno lustro al nostro territorio. Sarebbe opportuno che si intervenisse anche a ristorare i danni che si sono avuti qui nel Salento, anche perché, sinceramente, i commercianti veneziani che lavorano 365 giorni all'anno sicuramente avranno subito un danno, una settimana, 10 giorni, 15 giorni e avranno tutto il tempo per rifarsi. I nostri difficilmente potranno rifarsi avendo perso tutto e lavorando massimo due mesi l'anno. Va immediatamente data una mano a tutti i nostri amici salentini che ancora una volta dovranno rialzarsi. Ma noi amiamo, come dire, questa terra e mettiamo a disposizione la nostra televisione, come abbiamo fatto in tante occasioni, perché crediamo che sia un atto dovuto per tutti. Ecco l'Iban per dare un contributo sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, filiale di Lecce IT 57J086 0316 0000 0000 0314361, causale una mano per il Salento, un gesto necessario per rialzarsi. I salentini che tendono la mano ai salentini, prendendosi cura l'uno dell'altro.